Questo! Guarda già come lavora! Bravo! Esci! Ok, alza il gancio! Il tuo presso! Bravo, mettiamo il gancio! Uno, due, stop! Iscriviti al nostro corso gratuito! Ho mostrato la pasta sotto il sito di già. Quang constitution// Re, scaccera e 하면! Ok basta Non è che ogni volta che andiamo a fare qualcosa Dobbiamo stare al Burger King Promettiamo che questa è l'ultima volta Se non c'è un vlog che si rispetti quando veniamo a Milano Se non ci fermiamo al Burger King a mangiare schifetti Mai più Mi fa schifo Basta Voglio smettere Voglio smettere Aiutatemi E mangia un po' di onion Anche se non sembrerebbe Stiamo andando a Milano ad allenarci Più che altro non ad allenarci Ma a trovare uno dei padman più conosciuti Quindi contenuto esclusivo ragazzi Finalmente vi portiamo un contenuto Sul lavoro, su quello che è la funzione del padman Per gli atleti Naturalmente non siamo credibili Ora magari qua mangiando i panini Però Ce ne pentiremo tra circa mezz'ora quando arriviamo Anche perché molti di voi si chiedono Avendo visto i video di Mayweather Come fa a fare tutte quelle combinazioni I lavori al PAO Velocissime Velocissime C'è una base dietro Ci sono tante tipologie di lavoro dietro questo padman che non è solo il PAO Ci sono le bacchette mi sa che sono Le bacchette, quelle per gli sushi E quindi noi oggi andremo da qualcuno qualificato E cercheremo di chiedergli un po' di consigli E provare noi stessi Se ce la facciamo Se non mangiamo troppo Andiamo la va Questa sicura ragazzi faremo ritardo anche per questo vlog E abbiamo beccato traffico Notare la faccia disperata di Sandro Tranquillo Sandro Ci arriviamo Vai tranquillo No Eccoci qua arrivati Ragazzi siamo al Pro Evolution Fight con Max Repucci Ve l'abbiamo detto che saremmo venuti qua A registrare una chicca Il padwork Perché diciamo è una di quelle cose che viene abbastanza trascurata in Italia Diciamo che sembra che sia passata di moda E' una cosa importantissima Per me si Per me è un lavoro che fa molto Fa tanto E poi sicuramente l'avete già visto Perché lui fa i pad Hai maggiori campioni in giro per il mondo C'è gente così scarsa Tipo Marvin Vettorio Giusto per fare qualche nove Infatti l'abbiamo beccato Che eri in America Rai ma arrivi qua Ti dobbiamo beccare L'abbiamo beccato 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 Come leggero Hai paolo Marvin Sì è un peso più Siamo al parco giochi Ci sono migliaia di cose qua Adesso giocheremo come bambini Di subito vediamo solamente Gente che ti ha messo O questi O questi esagerando Ma c'è tutto un mondo Quindi facci la carrellata Io uso un po' di nuovo Questo qua è il classico scudo Lo si usa prevalentemente per il pugilato Soprattutto per far magari Tirare fuori l'esplosività dei colpi Magari si lavora con colpi singoli O con poche sequenze Per dare il massimo Con alcune tecniche Poi vabbè Io riesco a sbizzarrirmi A far usare anche magari I calci frontali Le ginocchia Già da qui Vai tipo una settimana di lavoro Io su ogni attrezzo Cerco di usarlo in più situazioni Soprattutto ragazzi Bisogna saper usare bene l'attrezzatura Non tanto per far migliorare il ragazzo Ma anche per tutelarvi voi Se li teniamo in una certa maniera Andiamo ad ammortizzare i colpi Se no ci facciamo male Partono spalle Cuffie Walkman Tutto Tutto I pesi leggeri Lo sfrutto anche per i low kick Lavoro molto in velocità Mentre se ho un peso Molto più pesante Lo uso solo su colpi singoli Cattivi esplosivi E gli curo molto la tecnica Passiamo I classici focus Ci sono di varie grandezze Più pesanti Più leggeri Vabbè Io mi trovo bene con questi Innanzitutto perché questi Oltre che hanno la pallina Hanno la chiusura qui Quindi comunque È un lavoro pericoloso Tenere i pao Rischia più che tenere i pao Qualche volta Qualche high kick E partì No ma soprattutto Bisogna saperli usare Anche per le spalle Comunque se gli vai troppo incontro Non gli fai uscire i colpi Perché comunque Gli fermi prima E se li mandi a vuoto Ragazzi Ipercontinite subito All'atleta Quando usano questi Meglio fargli allungare i colpi O tenerli un po' più stretti Perché molti Dal tipo di lavoro Bravissimo Dipende molto Quindi non è sbagliato Né uno né l'altro Incrociati i colpi O in un singolo punto Guarda per me vanno bene Tutti e due Quando li fanno su un singolo Di solito Quelli che usano più Nel pugilato Preferisco farli su due Però magari tenerli Il più vicino possibile Poi ci sono quelli Che li tengono tipo così E quelli che fanno un muoto Molti magari Sai cos'è? Che hanno paura Che dietro c'è uno con la pistola Ma non ti penso Ma picchiare quelli a fianco Io quando faccio questi In molti lavori Si vuole molto l'avversario Ok Quindi devo essere molto agile E devono essere Più piccoli possibile Perché più sono grossi E più anche quando rientro Ci allontaniamo un pochino Dalla realtà Quello è molto importante Nel senso Se il pad Rimane fermo Non è allenante Allora Ci sono Passate attive E passate passive Quelle che si avvicinano Di più alla realtà Sono quelle attive Vuol dire che io lavoro Insieme all'atleta Simulo quasi Uno spazio Qualcuno ci ha detto Che qua usate anche Dei mezzi non convenzionali Per spostarvi Però non lo diciamo Cosa usate Vabbè posso dirlo Qualcuno me l'ha già visto Quello è il patentivo Sì sì Ve lo dice anche il casco Questi ci sono Dei guantoni un po' particolari Che hanno un pulsante qua Che serve? Sì può essere Quando Gerry Scotti Allora questi qua Questo si avvicina ancora di più alla realtà Perché come vedete È un guantone a tutti gli effetti Con la pallina giusto Per far vedere dove picchiare Questa pallina comunque attutisce un pochino i colpi Però serve al maestro Per rientrare come un pugile vero Ovviamente ragazzi Chi usa soprattutto i focus Non servono per picchiare fortissimo Ma serve per lavorare a livello tecnico Questa è una cosa che non tantissimo Ma no Allora cosa hanno inventato a fare i sacchi Sennò il maestro si sfonda Sennò mettiamo una catena al maestro E lo appendiamo Qua serve velocità Colpo d'occhio Curare la tecnica Poi se c'è da menare Forte dare il centro C'è il sacco Sennò ti sfondi le mani Infatti Quando lavorano i passi Pensano proprio a caricare E no ma poi ti vengono tanto incontro Sembra che l'atleta C'ha una potenza della madonna Ma non è così Perché sono La sua mezza potenza Con la mia mezza potenza Primo agli atleti partono le spalle E in più Non dai una vera distanza Tra te l'avversario Tu vi hai incontro Quindi tu registri Che arrivi a qua Invece di arrivare qua Sì è vero Fa un rumore della madonna Per i video Per i video Per i video va bene Va bene per il tolbi soccato Credetemi Dovete imparare Non a far arrivare Al massimo dell'estensione Ma quasi Perché l'atleta Deve imparare Nella sua testa La vera distanza Poi quando va a combattere Mi è già capitato Che succede Che non trova bene La distanza Perché non sa Il suo limite Certo Dove può arrivare E questa è una cosa importante I focus Quando li tengo Non li tengo Troppo lontani Dalla mia faccia Perché se no L'atleta si abitua A tirare certi tipi di colpi Ma siamo troppo lontani Dalla realtà Cioè si capisce Perché quando il livello Di un padman È veramente alto Sono queste piccole Ragazzi Il problema È questo Che se voi Sbagliate già dall'inizio A impostarli Non li addrizzate più Diciamo che questi qua Serve molto sulla velocità Ok E il colpo d'occhio Mi metto in guardia E rientro come fosse Un pugile Io l'attrezzatura La uso in base All'atleta Se è vicino alla gara O lontano alla gara In base a se so Anche l'avversario Un'altra cosa Quando uno fa il padman Secondo me O che usa il power O che usa il focus Questo È obbligatorio Quando vedo Non per giocare Ma che si fanno i power I padman seri E non c'è questo Purtroppo Abbiamo la velina Ci ha portato E poi c'è questo tipo di lavoro Che io posso fare Abbinato a questo Sulla velocità E la potenza La metto solo al corpo Con questo Potenza sopra Potenza sotto Dipende quello Che voglio lavorare Il padman è questo Devo essere bravo io A capire chi ho di fronte E a capire quello Che oggi voglio lavorare Questo va bene anche Perché innanzitutto Posso lavorare anche di più Verso il petto Ci sono un sacco Di dettagli Di dettagli Quante combinazioni Sicuramente deve essere Che ho girato 99% Di queste in mano E tu fai ore e ore Di queste E non è sbagliato Però Io dico sempre Che un atleta Deve avere più armi Beh Lavorare in velocità E di box Con questi Sfido chiunque Quindi qua lavoro Colpi singoli Potenti E tanto con le gambe Ovviamente Middles Perché anche mettere I occhi qua Secondo me che è sbagliato Però posso lavorare Su pesi leggeri Oppure anche pesanti Ma qua devono solo appoggiarli E fare lavoro tecnico E lavoro di distanza Ma se vai a menare qua Quello kick Dopo un minuto È finita No ma non so Qua allena il low kick Come si deve Box più low kick Schivate più low kick Blocchi o blocchi sui low kick Più low kick Low kick più frontali Tutto si può fare Ci vuole fantasia anche ragazzi Ma anche per l'atleta Ti dai costino Vogliamo parlare di questo Per parcheggiare gli aerei Non dimenticare Questa qua è per la fiaccolata Allora uno È duro E uno è molle Quindi già ti fa capire Qui lavoro molto di più Sulla velocità E sui rientri Fa male Però Un po' Arriva ma non è eccessivo Arriva ma non ti mette capò Questo se arriva Se arriva sui denti Sono due impianti Ogni dente Prova Perché io non c'entra I resti fanno male Condizionamento di tibie E poi lo faccio rientrare Di pugilato O di gambe addirittura Sia su questo Su questo Tutte e due Possono essere Asterizzati Per colpire Però questo lavoro Più in velocità Perché ha meno ritorno Questo qua invece È molto più rigido Vado a fare i rientri Più pesanti A volte mi faccio mettere Anche il caschetto Questo è molto più reale Anche quando tu vai a colpire L'impatto Lo senti di più Questo lo senti molto di meno Io posso colpire su di lui Con i guantoni sempre Esatto Anche a malinude questo Però io lo faccio colpire sempre Con i guantoni Questo qua è un bellissimo lavoro Da fare A chi si butta addosso Quando porta i colpi Perché questo qua Se tu provi Se non sei bravo a rientrare Vai oltre Sì 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 Mentre questo ti blocca L'avanzata di più Questo qua devi essere bravo È tipo il vuoto Quindi devi essere bravo E coordinato E stare con il peso Sulle gambe In modo corretto Per non sbilanciare Magari sono troppo lento A portargli il jab Per farlo schivare E farlo rientrare Uso questo Qua il colpo d'occhio Aumenta del 60% Comunque c'è un miglior C'è un mondo Di più Che servirebbe Tipo 10 ore di corso Sarebbero un sacco di lezioni Ah poi questi Trick Questo è fatto in casa Questo qua Sì A posto di fare i fusilli Ecco questo Ma niente Sono bastoni Con dei guantoni Li uso veramente spesso Perché molte volte Quando uno fa il vuoto Hai una idea di quello che fa Sì è un po' di cazzi suono Non lo fai tanto per fare Non lo so che cosa Con questi qua Cambia l'attenzione E quindi il vuoto Diventa più impegnativo Invece che fanno Tre round di vuoto Così E non si stancano nemmeno Questo diventa Quasi uno spagno Ma è uno spagno Il problema qual è E' usarli E' saperli usare Usarli in una certa maniera Mi hanno chiesto in parecchi Di fare un corso serio Su Padma Molto lungo Che duri anche sei mesi Ragazzi il tempo Il tempo Cioè partire da là Arrivare alla z Per quello che ci vuole Sei mesi Sette mesi Lo farò Ho già il programma fatto Devo trovare il tempo Delle date Ragazzi ci sono due testimoni Che tra l'altro non conosco La prima volta che li vedo Non li ho neanche seguiti Cazzo Questa taglieremo Non possiamo Loro due faranno da testimoni Nel senso Loro l'hanno già fatto Passate Io con loro voglio provare E voglio fargli sentire Delle sensazioni del loro corpo Tenendoli in una certa maniera Loro voglio che si sentono Di dare di più Che riescono a scaricare di più Faccio vedere Come io Mi adatto a chi ho di fronte E in breve tempo Lo porto a fare Quello che io voglio Questo è il vero Padman Una cosa importante È individuare Gli errori dell'atleta Farglielo capire Per farlo migliorare Ovviamente si fa Quel guantone Molto meglio Perché è molto più reale Tieni sulla mano Ok Troppo Il minimo Scendi sulle gambe Guarda Ti spingono giù Con la spalla Ok Dall'altra parte Bravo Scegli e carica i colpi Ok Sì Così Bravo Questo Guarda già come lavori Oh non ho mai fatto niente Ti sei emozionato Avete visto in poco tempo Da che non ne prendeva uno Come comincia a capire Dopodiché Quando diventerà un po' più bravo Andrò Più reale ancora Accorcerò i tempi Lo vedete Troppo Schiva di meno Morbido Sei morbido Per mettere a suo agio Chi avete di fronte Dovete essere voi tranquilli Bravo Quindi Non bravo Quasi bravo Rallento Guarda che livello è Occhio alla schiega Basti troppo Schiva sempre sulle gambe Girmente Guarda avanti Oh bravo Minime di schivare Ok così Vale Bravo Bravo E gli è scelto Andavi indietro Di un altro mondo Sei contento? Sembro quasi che Sembra che Che lo so fare Per 5 minuti Se lo fai per un paio d'ore Infatti lasciamolo fare A chi è capace Non pensare No no Non è parco E lui è bravo A non pensare Lui è bravo A non pensare A chi è capace Me ne alzo due Sono due Me ne alzo uno O due Oh No Perché lo fai Un lato Un lato Un lato Un lato Molto bello Ok va bene Me ne alzo due Sei lì Stai andando bene Sandro Ma è stupendo Ma sai perché? Ma sembra un my weather Questo Si ride e si scherza Ma è un bellissimo Gioco di reattività Poi è bellissimo Che sono tipo Solo due regole A seguire Nel senso Si alzo due braccia Un braccio Il metodo È molto semplice Quello che uso con i bastoni Lo uso con i focus Lo uso con i pao È sempre quello Per quello che mi sono abituati Cosa bella È che non gli dico Gancio diretto Diretto gancio Ci arriva da solo Quando si diventa un po' più bravi Si cerca di arrivare a capire Se è scoperto col gancio Se è scoperto col diretto Col montaggio Bellissimo Cioè Sono piccolissime cose Che ti cambia la vita Tende l'ultimo abbastanza Guarda dove tiri Allunga 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 È sciolto Non pensare Alla cosa Ok Hai visto come ha scelto È assurdo Non diremo il trucco Ma è assurdo Vai 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 Ok Non farlo cadere Qua lavoriamo In velocità e scioltezza Uno Oh Oh Qua lavoriamo in potenza Così impara A giocare E giocare E sparare il destro Il lavoro Oh Ma che sono io questo Bellissimo Ogni dettaglio è Allora siamo tutti bravi Il problema è avere più dettagli Più informazioni Utili Quello è la cosa bella E poi avere uno che te li vede E ti dice guarda è quello il tuo problema Perché come dice Max Se nessuno te le spiega queste cose qua Ve le portate avanti E sarà sempre peggio Sempre più difficile togliersela Se io non gli dico E quando schiva c'è giù la mano Non glielo dirò mai Magari in un incontro Quella schivata può essere fatale Perché magari Prende un gancio destro Diretto Diretto Gancho Chiudi gomiti e carica Sulle gambe Ok alza il gancio Sulle gambe Ok 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 I tuoi proletti Sop Grazie 1 2 Sop Ok Sop Sop Ti avvicini con la parte Sop E torna Abbasso il destro Abbasso Fai questo Sop Sop Va Ok Uff Uff RUT Hom Voi Vai Voi 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 Veloce però eh Oh Bella Carla Tu che altro sai cos'è che all'inizio vai subito in panico perché vedi i colpi che arrivano Dando le azioni che non ti aspetti Perché sono veloci Impari a tenersi le mani Esatto Poi io vedo dove sei scoperto Quello che poi facciamo in palestra lo riportiamo sul ring da bere Quindi è giusto metterlo in pressione Ma gradualmente Sette e mezzo Avete visto la metodologia che l'aspetti E la capisci prima di me lei Sette e mezzo Sette e mezzo E non le fa quasi mai come raramente E' un amatore Abbiamo finito oggi diciamo la sessione di fa Mi hanno svolpato sti due verbi Ringraziamo Max per averci ospitato qua nella sua palestra Lo trovate su Instagram con Max Giga Naturalmente se non seguite Gianna per seguirlo Naturalmente l'argomento del Padman è un argomento vastissimo Quindi noi vi abbiamo fatto vedere una piccola parte Noi vi abbiamo fatto vedere un piccolo assaggio E ovviamente per provare su pelle venite qua e vi fate la lezione Io innanzitutto vi ringrazio che siete venuti qua Grazie a te Siete due ragazzi stupendi Molto bravi Grazie a te Fate con passione il vostro lavoro Sapete come farlo E quindi vi ringrazio dalla possibilità che mi avete dato Per farmi diciamo conoscere La figura del Padman ripeto come vi siete accorti voi oggi Sembra semplice Sembra superflua Ma oggi vi ho fatto vedere nei dettagli quanto può essere incisivo Tante piccole chicche ragazzi che messe insieme fanno sì che migliora l'atleta da un punto di vista un po' più professionale E diciamo abbiamo fatto un minuto di palo con lui e abbiamo già sentito la differenza Vi ho fatto vedere un po' di tutto e vi ho dato qualche dettaglio che vi può servire utile nel vostro percorso Fantastico Ovviamente tutto il dire di massimo ve l'abbiamo già detto Dovete provarlo voi stessi I video rendono Ma non è la stessa cosa come se provate Perché alcuni dettagli li capite se voi provate Grazie per l'esperienza Grazie a voi ragazzi Il video finisce poi ragazzi E domani mi avete spaccato Ciao ragazzi Ciao a tutti